Che cosa guidi? Nakar. Si fa il giro del fabbricato e si torna indietro. Chi ci sta? Via! Usiamo la testa. Ci servirà una crew più fica. Ciccio nero, limoncello e l'attricetta che parla poco ma l'ha da tanto. Cavolo, ma come fai? Che? Tu li pensi e quelli appaiono all'istante. Mr. Johnson, ho i fascicoli che ha chiesto. Sono troppo duri per pulirmici. La mia maglietta è abbastanza aderente. Come? I miei capezzoni li metti. Ci serve un solo autista. Provino a eliminazione. Al mio tre. Ci troverò! Mettete più vigilante! E matate il pelato. Ha più culo che anima. Cigali a destra. Fanculo. Assorata. Non è la macchina che guida. Lei non si fida di chi ha la guida non guida. Sgrida chi non guida. Non ho capito. Ai 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 ai! Lei non si fição喜歡. Sc面 di ilegare. Sc Stellare. Scstrom. Si.